Il mercatino di prodotti biologici di ogni genere alimentare non Biomarchè si è di recente spostato dal centro commerciale Cappuccini al centro sociale Il Borgo e il 3 giugno farà una grande inaugurazione nella nuova sede con assaggi della merce in vendita. Lunedì pomeriggio qui al centro sociale Borgo in via Saviotti, il Biomarchè che cos'è? Biomarchè è un mercatino di prodotti biologici certificati. Antibiologici vuol dire che non sono stati impiegati prodotti chimici né antiparassitari per produrre questi prodotti diciamo. C'è dalla frutta, tutti i tipi di frutta a stagione, verdure, formaggi sia di mucca che di pecora, carne di mucca e poi ci sono anche dei prodotti diciamo non producibili in agricoltura. Adesso tipo non so materassi, tutta roba insomma naturale che dovrebbe fare del bene alla gente. Poi c'è chi ci crede e chi non ci crede insomma su questi discorsi. Da quant'è che esiste il Biomarchè? Adesso in questo posto qui è da inizio maggio. Ci siamo trasferiti, prima eravamo al centro Capucini, ci siamo trasferiti qui e mi sembra che anche sentire il discorso degli altri partecipanti insomma che abbiamo fatto bene. Quanti produttori partecipano? Produttori siamo in 10 o 12 circa, sì. Di dove? Vabbè c'è un po' io per lì sono di Casa San Pietro, poi ce ne sono di Casa Fiumanese che ha la carne, il Salumi, il Salumi di Mora Romagnola. Poi ci sono di Faenza, del Mezzano, insomma un po' di tutta la zona diciamo come produttori agricoli. E come prima mi diceva avete fatto bene a trasferirvi qui, come mai? Beh perché c'è stata una bella risposta dalla gente e poi anche come posto magari là era più grande, c'era più spazio, però qui è più familiare diciamo come ambiente. Chi è che compra questi prodotti biologici? Chi crede nel biologico. Infatti prima quando eravamo di là, quelli che proprio compravano il biologico ci hanno seguiti anche di qua. L'hanno detto loro stessi che dice noi veniamo anche di là perché noi ci crediamo. Sì è gente che crede nel biologico, insomma nella sanità dei prodotti e cose varie. Che cosa c'è di buono nel biologico? Che differenzia magari dagli altri prodotti? Prima di tutto la sanità. Per il fatto che non vengono impiegati sostanze chimiche, antiparassitari e tutto un altro, secondo me è tutto un altro discorso. C'è il buono. Io ascoltavo una trasmissione oggi che è stato fatto all'ospedale adesso, che parlava appunto di biologico. Però c'era un giornalista che diceva che lui non interessa se è biologico o non biologico, l'importante è che sia buono. Però se è buono e biologico è ancora meglio che convenzionale. Vi siete spostati qui a maggio, ma cosa succederà il 3 di giugno invece? 3 di giugno stiamo organizzando l'inaugurazione del mercatino, diciamo insomma. Ci sarà un po' di festa. Ah beh, le orari dalle 3 e mezza fino verso le 8. Le orari del mercatino poi dopo vedremo a che ora farla, ma più meno le orari sono quelli. Francesca Di Letta per Faenza Web TV Grazie Grazie Grazie